buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi voglio parlarvi di un prodotto che mi hanno dato da testare sono stato contattato da sua occhi azienda che produce batterie varie accessori per il campeggio viaggi e non solo per correttezza vi dico che sono appunto stato contattato da loro in cambio di una recensione mi hanno fornito questa batteria di cui vi parlerò tra poco grazie a questa collaborazione se qualcuno di voi vorrà comprare questo questa batteria portatile ci sarà un 10 per cento di sconto e a me ne verrà un 5 per cento lo dico per correttezza così lo sanno tutti e siamo a posto così l'ho testata per molto tempo e posso assicurarvi che un ottimo prodotto non ne parlo bene perché mi conviene ma perché mi serve realmente e visto che vivo in camper vorrei dare un un giudizio reale di quella che di quello che è questa batteria qua in poche parole si tratta di una batteria portatile da 400 watt ora con un inverter ad onda pura da 300 watt quindi posso collegarci tranquillamente il computer o le batterie del drone o della macchina fotografica a quattro prese usb che sono più che sufficienti per caricare gopro cellulare tutto quello che serve anche una presa a 12 volt che non ho usato perché non ho niente a 12 volt però può tornare utile e la cosa interessante è che anche un car jump starter quindi grazie a questo cavo quando la batteria è carica e se la batteria della nostra auto furgone camper quello che è giù noi possiamo collegarla colleghiamo positivo e negativo alle batterie del motore e possiamo salvarci perché magari può capitare di essere nel nulla in mezzo a una nevicata con la batteria giù noi abbiamo questa nel gavone o dietro il sedile e siamo a posto la cosa che mi è piaciuta di più di questo di questa batteria portatile che ha diversi modi per il caricamento si può caricare a 12 volt in viaggio o anche a una presa accendisigari del nostro camper ho notato che la velocità di caricamento è di circa 80 watt questo significa che si può caricare completamente la batteria in circa 4 5 ore invece a con l'inverter a 220 carica più lentamente questo non so non so il motivo di questa di questo dettaglio qua però carica circa 50 55 watt quindi una ricarica completa chiede molto più tempo cosa positiva è che si può anche caricare con un pannello solare dedicato da massimo 100 watt qui ha un attacco solar e viene fornito anche un cavo apposta proprio per il collegamento rapido io non ho nessun pannello solare anche se ho 420 watt sarebbe carino per quanto mi riguarda avere un impianto separato quindi avere questa batteria all'interno del camper e lasciare fuori un cavo con un pannellino solare flessibile da 100 100 watt magari di quelli che si ripiegano in due così da chiuso non occupa tanto spazio e avere un impianto separato essendo da 400 watt ora mi consente una buona autonomia purtroppo il mio macbook pro portatile con hard disk consuma parecchio circa 100 120 watt significa che mi tiene circa tre ore e mezza di utilizzo intenso che comunque è buono la cosa positiva è che quando io vado a sciare potrei lasciarla benissimo in seggiovia dove conosco in altri punti o a casa di amici farla caricare e poi tornare a prenderla la sera bella carica questo ovviamente quando non c'è tanta luce quando in montagna nevica o quando c'è mal tempo e quindi i pannelli solari fanno poco o niente la batteria in questione ha anche un display molto comodo con tre tasti uno per l'accensione gli altri due per accendere le prese 12 volt usb oppure l'inverter ad onda pura la cosa che mi è piaciuta di più è che l'inverter ad onda pura pur essendo solamente un 300 watt anche perché se fosse di più durerebbe meno la batteria quindi non avrebbe molto senso è molto silenzioso io sul camper ho un inverter purtroppo ad onda modificata e fa un sacco di rumore oltre al fatto che rovina gli elettrodomestici come il computer che uso non è il massimo infatti adesso cercherò di utilizzare questo che è davvero molto comodo e silenzioso lo schermo ha un indicatore con cinque tacche quindi ogni tacca è da 80 watt non ho ancora capito se esiste un effetto memoria quindi non ho capito se si possa scaricare completamente la batteria oppure no da quanto ho capito sarebbe meglio caricarla quando ci troviamo una tacca quindi la capacità reale della batteria dovrebbe essere circa 320 350 watt ora che comunque sono un ottimo valore considerando anche le dimensioni della batteria e il peso perché è circa 20 centimetri per 20 per 10 di profondità e pesa solamente 6 chili quindi è perfettamente trasportabile senza grossi problemi ovviamente magari uno non si fa il trekking con una batteria così e si porta un power bank piccolino per caricare cellulare cose simili però può essere veramente un ottimo prodotto per chi fa campeggio libero con camper fuoristrada o van volevo provare insieme a voi l'uso del computer così capite quanto poco rumore fa l'inverter io lo collego e accendo ac on quindi si può collegare il computer all'inverter si accende la batteria e si accende la ac on si preme ac on e l'inverter può iniziare a funzionare il rumore è veramente impercettibile ve lo posso assicurare in questo momento il computer sta consumando 97 watt quindi un 100 watt significa che faccio tre ore e mezza circa con una batteria carica secondo me è un prodotto che ha senso sia per le persone che stanno facendo un mezzo o hanno un fuoristrada e non vogliono fare un impianto separato ma vogliono qualcosa di trasportabile che si possa portare anche su un altro veicolo o in montagna o lontano dal dal mezzo quindi questa batteria portatile è perfetta però può aver senso anche per chi come me ha un camper e vive sul camper e vuole un impianto separato appunto come dicevo prima grazie se uno ha un pannello solare dedicato è come se avesse un impianto completamente separato quindi si ha una batteria in più e non si sforzano le batterie del camper non ho mai provato a caricarlo alla 220 e la 230 di casa ma probabilmente è più veloce di quando la carico alla 220 in camper con l'inverter essendo sempre in giro vivendo in camper non ho possibilità di far questo ma lo proverò quest'inverno quando magari lascerò la batteria da amici a casa di amici in montagna a caricare quando magari farà brutto beh non so cos'altro dire nel senso che alla fine il prodotto è molto semplice si tratta molto semplicemente di una batteria da 400 watt ora che permette di avere energia praticamente ovunque grazie al suo peso limitato di soli 6 kg si può portare in giro senza grossi problemi io adesso partirò per la Corsica quindi la userò veramente tanto collegandola la caricherò quasi sicuramente collegandola alla 12 volt del camper quindi la caricherò in viaggio anche se penso che beccherò belle giornate quindi potrò caricarla anche alla presa accendisigari quando il mezzo sarà fermo quindi grazie ai pannelli solari detto questo vi lascio il link in descrizione con il buono sconto che può farvi risparmiare ben 34 euro quindi alla fine il costo sarà di circa 305 euro è un risparmio niente male secondo me il costo considerando che c'è un inverter ad onda pura è molto allettante il prodotto mi sembra ben fatto io l'ho testato per circa un mese e mi son trovato bene ora continuerò ad usarlo perché comunque per me avere energia in più è importante visto l'utilizzo che faccio del camper, del drone, della macchina fotografica, del computer tutti gli strumenti che mi servono per filmare, fotografare e portare avanti il mio canale youtube quindi niente spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta e ci vediamo presto fatemi sapere se la prenderete e come vi trovate ciao e alla prossima